cari amici di scuola e botte scusate se rito perché qua ci sono dei ragazzi che sono dei buon temponi uno fa ride uno è molto serio oggi vi ho portato due fighter tra l'altro due personaggi molto particolari perché sono grossi non ho portato fighter piccolini ho portato da una parte mattia faraoni campione di pugilato e di kickboxing perciò professionista in due specialità e dall'altra alessio di chirico alessio di chirico è uno dei più grosso già già se iniziano a fare le rivalità si è incastrato guarda lo specchio tutto il tempo non parla più non lo so poi giudicheranno loro che è più grossa televisione si guarda ciao volete salutare mamma zia cugini volevo salutare mamma e tutti quelli che mi conoscono tu alessio vuoi salutare il piccolo leo la mia moglie se mi vuole sposare ci ha messo nei casini a tutti mattia con questa cosa che ha fatto tutte le moglie ma che carino mattia guarda c'è ci ha messo proprio rovinato tutti mi stanno mandando le foto degli screenshot e ma anche ad alessio infatti alessio me lo dice delle le compagne che mandano il poste mio al proprio fidanzato guarda ecco guarda mattia cosa ha fatto ma tanto alzato le aspettative di tutti grazie mattia vabbè regà oggi parleremo con i fighter un pochettino della loro vita la loro storia siccome mattia combattua poco e alessia brevissima un match tra l'altro molto importante dove combatterai a las vegas il 28 agosto las vegas vedete c'è anche una contrapposizione abbastanza importante tra combattere in italia e andare a combattere a las vegas perché adesso uno dice a bella svegas ma è anche un impegno importante che tu poi lasci la famiglia prendi parti vai a fare il camp cioè non è una cosa sottovalutare e partiamo da mattia che lui ha combattuto proprio da poco e qui vedete questa è la cintura di campione italiano di pugilato categoria massimi leggeri alessio te la voleva fregare secondo me cintura solo blu poi quindi bisogna fare un appello a luca di cana coreta no 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 gli rimani alla cintura viola d'onore ma sto ragazzo no no gli rimani blu no 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 cintura viola d'onore dai salta laveri tipo vabbè faccio l'esempio dei pikachu che non si è evoluto però forse sei un po troppo vecchio queste cose pikachu come no no vedi qui rimane cintura blu a vita c'è manca fatta da del vecchio da lui che manco sapeva che era twitch poi capito però era lo chiedevi in un periodo in cui ancora non era non era conosciuto non lo sa manca adesso devo essere sincero no non lo so anche adesso lui ma cosa che è tic toc per dire tic toc dai rega lo sai i balletti quelle cose i balletti non è detto in social i balletti c'è solo gente che fa balletti oppure fanno anche altre cose ma sì c'è sta di tutto c'è gente che fa i tutorial c'è gente che racconta poesie anche la parte culturale culturale cioè che lo sai perciò dicevamo tu hai combattuto di recente infatti gli occhi un po lo testimoniano c'ho ancora l'occhio a panda infatti adesso mi sta prendendo in giro da primo su sta cosa che a pranzo abbiamo mangiato il bambù vabbè mangio il bambù dorme 36 ore al giorno che poi sono 24 va bene no e venerdì 16 luglio ho combattuto allo stadio di ladispoli per il titolo d'italia professionisti ho battuto francesco versaci che era il campione in carica e devo dire che ci sono state una una serie di soddisfazioni ovviamente alla prima è quella di aver vinto un titolo che poi ricordiamo uno può vincere tutti i titoli ma il tricolore è sempre il tricolore c'è una soddisfazione sempre grandissima vincerlo anche nella box olimpionica no stesso cammarelle dopo aver vinto le olimpiade dopo aver vinto i mondiali quando hai vinto i campionati d'italia assoluti è sempre detto sta cosa il tricolore rimane sempre qualcosa che per cui subisce una fascinazione è cavolo è una cosa importante da italiani e poi ovviamente come molti forse hanno visto appena ho vinto o mi sono genocchiato ho fatto la proposta di matrimonio davanti a tutti alla mia compagna Alessia pensa che ansia che c'avevo cioè versaci faranno i due dopo tutte le polemiche il primo evento con il pubblico dopo un anno e mezzo di pandemia e poi piccola digressione in questo anno e mezzo come forse qualcuno sa mi sono dedicato molto ai social ai lavori su youtube uno su tutti i quartieri criminali che ho fatto che sto facendo con cicalone quindi ho riscontrato una una risonanza mediatica fortissima già dalla vinta dei biglietti cioè noi i miei collaboratori la prima in un giorno erano finiti bordoring e buccioli stesso ha detto in vent'anni che organizzano era mai successo in una settimana 540 poi a benissimo all'inizio erano mille posti poi hanno fatto una deroga al 1500 poi a 2000 poi secondo me alla fine era sold out ma c'era la fila poi quella fila è stata spinta secondo me si è infilato qualcuno ha scavarcato magari contro la volontà di Davide Buccioni che sicuramente lui fa tutta a norma però io ho visto uno stadio pieno poi in modo preciso molto pieno devo dire la verità e la cosa che fa veramente piacere lì dove il pugilato in Italia non è che fatica di più perché c'erano dei campioni presenti all'evento poverini non sono stati calcolati dal pubblico a favore degli influencer presenti cioè io ho visto persone farsi 500 foto poi passava il campione qualcuno gliela chiedeva allora non è una cosa buona è una cosa cattiva è una cosa di cui bisogna rendersi conto cioè la potenza mediatica dei social uno che prendo io per esempio io sono una pippa uno non ha mai fatto niente mi sono fatto 600 foto per giorno una roba assurda Giovanni De Carolis ex campione del mondo Michael Magnesi eccetera non l'hanno fermati praticamente mai e questo ci fa pensare quanto veramente il ruolo dei social rivesta anche in questo settore perciò questo è un appello anche alla federazione ai pugili o quanto al mondo ignorante non lo so sai purtroppo è che quando tutto il mondo va in una direzione tu la puoi pure ignorare perché tu magari guardi una trasmissione televisiva e dici ah quanto è brutta sta trasmissione televisiva però ci sono 20 milioni di persone e sa la guardano cioè io Sanremo non la guardo però 20 milioni di persone la guardano per me è così la quantità e anche qualità chi dice il contrario dovrebbe ragionarci perché anche il terremoto se è magnitudo 1 anche qualitativamente è una cosa che manco si avverte se poi diventa 8 quindi quantitativamente aumenta aumenta anche la qualità quindi purtroppo quantità e qualità vanno a pari passo quello che vuoi dire gli social sono uno strumento non ho detto che i social siano una cosa buona una cosa brutta ma è il tema di quello che c'è il tema le tematiche che utilizzi attraverso il social quello è uno strumento puoi stare a scegliere su cosa fare cioè noi per esempio noi allora la rivoluzione dei social per carità è sicuramente una cosa è un fenomeno storico che stiamo studiando adesso e sicuramente c'è gente che è brava a comunicarlo che ha questa capacità che ne ha fatto un lavoro e poi penso che Simone poi conosco il nome però si chiama Simone e in questo penso sono i più forti in Italia però quello che stavo dicendo poi che non è per giustificare però noi nello specifico cioè non è che facciamo fai ghiacciate oppure ostentiamo violenza cioè se ci pensi a parte che conosco lui da una vita le nostre prime collaborazioni vertevano sul tutorial cioè quindi noi facciamo dei tutorial in cui per esempio io facevo dei colpi di gambe c'è video che facevano 200.000 visualizzazioni video che andavano in tendenza su YouTube quindi tu uno sport di serie Z di serie Z in Italia che non si calcola a nessuno tu lo portavi su una piattaforma social ad avere così tante visualizzazioni lo portavi in tendenza su YouTube quindi vuol dire che in quel momento uno sport di serie Z come la kickboxing lo promuovì a livello del calcio lo promuovì a livello del calcio di Mario Di Filippo allora guarda l'esempio è stato guarda quest'ultimo evento tre video sull'evento tutti e tre in tendenza nel momento in cui c'era il calcio e c'era la musica cioè noi stavamo terzo posto sotto i maneskin i maneskin che stanno a fare dei numeri enormi 12-14 milioni di visualizzazioni internazionali perché loro hanno cantato in inglese ovviamente perciò pensate il pugilato che in questo momento nessuno se lo fila ma proprio nessuno sto scherzando io poi vengo al pugilato perciò lo conosco trovarcene tre video tutti e tre in contemporanea tendenza aspetta il quarto stava cioè così eh c'era un quarto ha fatto un botto di visualizzazioni però c'è questo per dire per esempio Signani che io saluto campione d'Europa un grandissimo pugile adesso gli hanno posticipato il match di 7-8 mesi perché non ci sono rete televisive che erano interessate a pubblicare a trasmettere l'evento tu ti rendi conto un campione d'Europa che non riesce a svolgere il titolo perché non ci sta la data televisiva allora quello che io dico è questo la paghiacciata fino a se stessa la cosa il fenomeno da baraccone è una cosa cioè non è che io mi devo vendere anche se fisicamente pur di apparire no però se io ti porto un video tutorial una preparazione ad un match oppure nello specifico un quartiere di liminali ma io non ho detto che non sto d'accordo no no ma io non parlo ti parlo in generale ho detto che sicuramente però il fatto che magari un influencer tutto il rispetto per un lavoro è che prende che magari è più riconosciuto di uno che è il campione mondiale a me è una cosa che non mi piacerà mai ma io sono d'accordo con te perché a me piace secondo te perché a lui piace io sono d'accordo con voi ma allora cerchiamo di risolvere questa cosa lo sai che succede? che se allo stato della Dispo le vengono 3.000 persone quel momento per vedere Mattia combattere e poi perché hanno visto ci stanno loro che succede? che questa volta siamo riusciti a portare in un evento di bugilato non la solita nicchia delle 300 persone quello che nella mattina fa il carrozziere che fa il barista quindi che succede? quel giorno da tutta Italia poi sono venuti da Catania Catania quindi che vuol dire? che quel ragazzo quel giorno è venuto a vedere me però ha visto oh massa Rossetti è fatto proprio ma infatti è successo bravo Mattia è successo proprio questo Rossetti non lo conoscevano ieri stavo a cena con Bismarck Gianni Bismarck e mi fa ammazza quanto mi è piaciuto Rossetti ecco Gianni Bismarck non ha mai visto un incontro di bugilato un cantante comunque uno che ha fatto diversi dischi pure con Emma mi fa mi è piaciuto tanto il bugilato ma quanto mi è piaciuto Rossetti cioè l'abbiamo introdotto al bugilato un cantante uno che se magari fa una canzone sul bugilato uno che magari domani parla magari in una storia di bugilato muove 10.000 persone allora per quello gli influencer servono perché gli influencer poi ha dimostrato Logan Paul con Mayweather ok una paglia tutto quello che vuoi ma quanti soldi hanno mosso e quello capito però che vuol dire eh però quello fa bene al tuo movimento perché Ale tu puoi stai per me quel match non ha fatto bene il movimento Logan Paul Mayweather no fa bene perché ha interessato al bugilato persone che non l'avrebbero mai guardato quando Mayweather ha fatto entrare Justin Bieber però ha perso un sacco di dignità di onore cioè ma l'onore sai cos'è Ale l'onore senza pubblico è brutto nel senso se no famo come se sta a fare in Italia adesso no non è che è brutto famo le riunioni con 30 persone non è che è brutto è che purtroppo non è in grado di sostentarsi quello si ma hai detto poco certo allora qual è il discorso tu adesso stai partiamo del caso Alessio no lui sta in UFC cioè UFC è proprio l'apoteosi del social di tutto quello che c'è dietro del business non passa per la tv il business eccetera tu sei fortunato da una parte perché loro in automatico ti spingono cioè non devi fare un lavoro o lo dovresti fare però non devi fare un grandissimo lavoro di social perché tu a livello social già sei conosciuto perché quando ti presentano in UFC Alessio Di Chirico Alessio Di Chirico già quella è l'identità è vero sì questa è la fortuna che c'è che secondo me è un bene l'UFC che ha il monopolio no? perché nel pugilato ci stanno diversi titoli che è WBO IBF 65 non mi ricordo e quindi è molto più spezzettato no? è difficile avere un campione universale che ha tutti e 5 titoli per fortuna nell'MMA e io prego Dio che rimanga questa egemonia dell'UFC che sai che il campione UFC è il più forte del mondo e appunto per questo l'UFC ti porta ad avere comunque una direzione a tutto il movimento capito quello che dico? la K1 il K1 per me è lo sport più romantico di tutti perché ho degli atleti pazzeschi pagati pochissimo che comunque poi non vuoi quando K1 Max che poi è stata la promotion più grande con il Glory però il Glory non ha avuto tanti anni no? ma ci sta ancora il Glory? sì però non ha poi diciamo non ha tenuto quella rotta che potesse comunque trainare tutto quanto il movimento si vede in atleti che stanno fermi da tanto non riescono a mantenersi facendo questo lavoro quindi è diverso però il KMMA comunque è molto più giovane ha 25 anni no? quindi è poco diverso come discorso ma sicuramente è un discorso pure di epoche perché 20 anni fa al di là del K1 con GP in America se tu vedevi il titolo del mondo isca tra Rufus Rick Rufus e Ernest Hoss c'erano 40.000 persone a guardarlo e piavano un sacco di soldi lo stesso Liberati per Regal qua in Italia riempivano i palazzetti piavano delle borse che proporzionate adesso erano incredibili quindi comunque c'è un ricircolo ma anche i pugili pensate a Damiani con Totip che c'erano delle borse enormi adesso è il periodo dell'NLA Nardiello cioè tutti quei Parisi cioè oggi il pugilato sta morendo proprio perché manca tutto questo perché si è evoluto il mondo e loro sono rimasti in televisione in America no no ma neanche in Inghilterra pure sta andando bene in Germania va bene in Italia il pugilato in Italia il problema in Italia è 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 il problema comunque tornando a quel discorso adesso io parlo di me perché già so che magari molte persone possono criticare per esempio la mia il mio dualismo tra social e la vita da fighter io avrei tanto da parlare a queste persone per esempio no perché uno che fa l'atleta dovrebbe fare solo l'atleta ok ma perché uno che fa l'atleta è normale che lavora 8 ore al giorno far carossiere questo succede in Italia quindi se io magari se gli va bene che l'ha trovato lavora carossiere se io facessi finisco il concetto se io facessi uno sport tipo il calcio per fare un esempio in cui risonanza mediatica sponsorizzazione degli eventi soldi ma chi è che ti dice dovrebbe fare solo l'atleta no no quelli che io leggo su facebook non mi serve che quello si rivolga a me se uno esprime un concetto riguardo al mondo social e il fighter esprime quel concetto mi ci identifico nel momento io faccio quello però io ti dico se io facessi uno sport per cui già l'UFC è così per cui non mi serve che mi devo prodicare io per far venire gente al palazzetto non serve che io faccio altri lavori perché lo sport già mi paga abbastanza se non serve a creare la risonanza dietro un evento io grazie ai soci non lo farei perché mi faccio un c***o si può dire un c***o così? cioè guarda che Simone al di là che quello che faccio Simone mi piace quindi è un gusto personale però io con Simone ci facciamo un masso così io mi alleno il tempo tu mi dici non mi sei mai venuto dal bar io guarda che il tempo lui sta a tutte le mie scalette del giornale cioè per farlo oggi in film il tempo libero quando ce l'ho faccio i video questo però per dire c'è una doppia valenza al di là dell'aspetto sociale che mi piace proprio è una santa però io lo faccio pure perché stiamo dando una mano a un movimento che senza queste cose è fermo e io ti dico combatti in un palazzetto in cui si trovano dietro i calessi da basche che la gente che combatte prende 600 euro davanti a 30 persone io non lo faccio perché se ne è pari ricchezza almeno per la gloria ma la gloria dove è combattere con 30 persone non ti fa sentire atleta allora ci dobbiamo ti ripeto fammi andare allora in un posto in cui la visibilità ce l'è uguale la risonanza ce l'è uguale e la gente e l'UFC e l'UFC 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 sarebbe bello far solo l'atleta non correre là fai i privati di là vai a far vita ma non perché sia facile andare in UFC anzi Alessio è uno dei pochi che ci è riuscito però lui secondo me ha una fortuna a livello mediatico l'UFC questo perché è vero questo è lo sport del momento ci va comunque l'UFC richiede non direttamente ma indirettamente certe problematiche è normale lo farei pure per cui mi sono avvicinato molto ai social infatti da voi guadagna comunque di più chi è più social chi è più risonante quello è chiaro chi vende di più alla fine è uno show come hai detto tu McGregor magari ha fatto un po' del bene e un po' del male a sto sport però quanto l'ha riportato in alto con tutti i show che ha fatto quanto la gente ha parlato di sto sport Khabib sicuramente un mostro però paragonati a livello mediatico non c'era neanche il lontano paragone poi l'ha ammazzato lo distruggeva lo smontava quello che vuoi però la gente guarda il fenomeno guarda il personaggio guarda tutta una serie di cose che purtroppo non possono prescindere poi se tu sei forte e sei bravo ecco Mayweather è l'esempio secondo me il top del top lui è bravo perché non possiamo dire che Mayweather non è bravo è un alieno in più aveva la testa dell'imprenditore sopra tutti veramente è un mostro vero di imprenditoria lui forse è più bravo in imprenditoria che a livello pugilistico Mayweather però è un esempio che si può avere tutto nella vita però tornando ad Alessio ora lui combatte tu adesso hai un match diciamo importante perché l'avversario tuo l'avversario tuo è bello incagnesco come si dice vabbè si è un dagestano un carognito sì un dagestano come Kabib lo chiamo il nuovo Kabib sarà incontro duro perché devo mantenere alta l'hype che mi sono preso e per me è la cosa più difficile nel senso la cosa difficile è rimanere costante nella vita io sono sempre stato in grado di stupire tutti questa è una cosa che mi riesce proprio bene insomma a me in generale si triscono sempre tutti quando quando dubitano di me ora devo mantenere quest'hype e arrivare fino al numero 15 che è il mio primo obiettivo al mondo e non è come il meglio lungo termine 28 28 28 scusa non so se se tu vincessi questo match entreresti nella top 15 no questo match in realtà è un po io ultimamente l'UFC ho un ruolo tipo da gatekeeper capito quando c'è uno che è forte e lo vogliono lanciare lo danno a me per vedere se è davvero forte e è un altro tipo di carriera però altrettanto rignitosa ce l'ha avuto un altro fighter 6 Malvey per esempio era quella a cui gli davano tutti questo è forte lo diamo a 6 Malvey e il mio obiettivo è mantenere questa rotta fino a che non arrivi appunto al numero 15 avere magari un big name il match dopo di questo e poi e poi un'altra ragione con questo obiettivo è trovarne un altro come poi si procede nel goal setting tra l'altro quando ci eravamo incontrati l'altra volta ti ricordi ti avevo chiesto a te piacerebbe stare al posto di Marvin no? tu mi hai detto giustamente ti direi una bugia se ti dicessi di no giusto no? come ranking come ranking e adesso che lui diciamo ha fatto sto titolo qua a Desania è andata come è andata qual è la tua opinione su quel match che poi non ne abbiamo mai parlato domanda piccante no no lo dico nel senso Marvin per me purtroppo ha perso due occasioni per portare avanti il match nel primo take down poteva dare più danno infliggere più dominio però diciamo a Desania i miei ragazzi è stato proprio ciocavo tutto ma in piedi per me non è stato il merito di Marvin ma pure a terra ma io si a terra a terra quando gli ha preso il collo per esempio è riuscito a uscire ma ti hai fatto pure giugisci ha preso il collo ha preso la schiera ha stiamato a Leao un po' di fecchini ha preso il collo mi strilla pure mo c'ho la cintura più alta ragazzi mo uscirai che Alessio mi fa c'ho la cintura più alta e ti strillo perché no che vuoi c'è la polentone così tu ormai mo chiamano la coreta e glielo dico luca levagli la cintura a questo cortesemente perché mo non ho po' mente a lui non si allena più da una vita non me leno più poi il vero maestro là è Fabio Anacoreta non è Luca Anacoreta ah l'hai detto tanti a milioni di persone ma il vero maestro è Fabio Anacoreta in palestra quello che parla è vero lo dice lui Luca se glielo chiedi si io adesso io mi dissocio anche io mi dissocio ci dissociiamo il cor del leone no vabbè quindi secondo me lì a Desania c'è più che un demerito di Marvin è stata una prestazione superlativa di Israel a Desania che ha sentito tutti lo sai che mi piace proprio come Taleta ho sentito dire una esprimere un concetto quello che io ho perso tanto nella vita ho perso nel pugilato ho perso nella chicche ho perso nella vita ho perso l'amore cioè non è tanto non perdere mai ma quando per cioè mi è proprio piaciuto perché usare le sconfitte come forza per ribatti bene un messaggio sbagliato carovinato di tutto il movimento pugilistico e dell'MMA è stato in primis da questo punto di vista Mayweather perché questo senso di imbattibilità no cioè lui oltre che essere un campione gli ha sempre detto tutto bene dal punto di vista dei verdetti verdetti un po' dubbili sono stati dati ma basta che ti fai un match che ti si rompe il tendine del bicipite oh cavolo è il match lo perdi quindi quello che vuoi dire quella è l'eccezione che conferma o il colpo della domenica può sempre capitare quella è l'eccezione che conferma la regola lo sport come la vita non voglio fare la frase da Barbara Duzzo che match era quello che ti sei rotto? la bella torco vitale che poi hai fatto rimatch però quello che vuoi dire lo sport come la vita cioè che è questa infallibilità lo sport è questo sentire la stanchezza vivere una delusione fallire ricominciare cioè è molto più umano cioè l'essere umano non è perfetto fallisce sbaglia si ammala poi guarisce quindi secondo me questo messaggio sbagliato che poi la ripercussione è stata che no tutti i record è infallito cioè se sbagli se perdi oddio stai fuori invece nel K1 soprattutto nel K1 WorldGP non era così allora non c'era tutto sto trash talking si vinceva si perdeva poi perdevi ricombatteva cioè si viveva molto di più il concetto dell'artista marziale del fighter con tutto poi il rispetto che ne consegue perché pure adesso sto trash talking ognuno fa le sue scelte però a me non fa infatti Mayweather che problema ci ha dato Logan Paul che ci ha fatto una carriera ha preso quanti soldi col trash talking vabbè ma lui non è non è un pugile Logan Paul cioè ha due match due match però ha guagnato più di molti pugili eh certo il patentino da professionista se l'è comprato praticamente perché lui ha fatto un match da dilettante due da professionista finita cioè lui è uno youtuber lui è un influencer Logan Paul proprio fighter proprio neanche neanche lontanamento poi il peggio ancora è Jake Paul Jake Paul è molto è il fratello molto più arrogante molto più ma è un personaggio guarda il discorso va sempre a a cultura nel senso cioè parte una moda e poi si ramifica all'interno dell'utenza quindi stiamo in un periodo in cui a livello sportivo c'è il trash talking l'ostentazione il membro più grosso si fa a gara nella musica c'è sta la trap io ti sparo ti faccio ti cosa invece prima e non è vero che con grazie soltanto al trash talking che si tira pubblico perché ripeto il pride il one war gp in cui si vigilava tutto un altro concetto rispetto per il fighter oh riempivano i palazzetti c'erano i pin giochi della playstation c'erano i fighter muti no Mirko Grokop io non l'ho mai sentito di mezza parola Ernest Hoster mai sentito di una parola facevano le pubblicità insieme della gillette Fedor Emilia oh regà ma Fedor Emilia ma avete mai sentito parlare voi io pensavo che era muto ma questo ti dici che non è vero che c'è l'equazione o fai così che ti vuoi sparare o saranno riempi non è assolutamente sono trend che vanno de moda e da sto punto di vista qua per esempio Alessio questa ragazza ritira fuori McGregor però il trash talking almeno perché ha ritirato però l'UFC ha ritirato su tutte le sorti grazie a McGregor tu Alessio stai in un contesto dove il trash talking c'è poi tu hai fatto addirittura il contrario io mi ricordo quando il tuo avversario ha perso che non hai manco fatto la conferenza dopo che è stata una cosa che ha colpito molto cioè tu facendo l'esatto contrario ne hanno parlato tutti quella apprezzata in Italia e criticata in America ma lo sai che è purché se ne parli se dice sempre perché tu avessi fatto una conferenza che nessuno si filava vabbè se sono lamentati vabbè non stesso ah io sono sincero veniva da un malessere mio dopo tre sconfitte molto sottili ai punti in cui volessi non vabbè io non lo dirò mai però diciamo sottili ai punti ce sta come concetto e quindi volevo sperimentare avevo dentro questa questo messaggio da mandare capito perché poi alla fine chi vince è sempre purtroppo questo sport è così no chi vince si sente un dio e chi perde si sente nonostante magari la performance è stata quasi identica se non per un pugno ho appena presa la performance il percorso le pressioni emotive i sacrifici c'è incredibile facciamo tutte e due le stesse cose soltanto che poi c'è uno vince prende la corsa prende tutto e l'altro no quindi comunque ci deve essere un limite per esempio una cosa che mi piace stare male fu nel penultimo match contro Cummings ho perso all'ultimo secondo fu il fatto di l'intervista del mio avversario che stimavo che mi disse sì sì l'ho mandato K.O potevo mandarlo K.O prima ho sbagliato non a dire sono fortunato all'ultimo mi è entrato quel colpo capito? era il calcio un calcio l'ultimo secondo però vedi lui a sbagliare lui sicuramente successivamente perché quello che decidi di dire è sempre la decisione tua però quando vivi in un momento in cui hai vinto ti far parlare devi caricare quello che dici magari se fosse se avesse combattuto in un contesto in cui il rispetto deve essere la prima cosa magari se la risparmiavano a fare questo genere sì appunto e purtroppo è il sistema che l'ha spinto probabilmente cerchiamo di cambiarlo in Italia noi modestamente umilmente parlando però cioè se vedi ecco noi abbiamo riempito adesso un palazzetto cioè uno stadio a te quanti hanno detto del tuo avversario che al primo match si era tirato indietro che non voleva fare il match no? sono sicuro che te quelli li hai stoppati subito certo a parte poi ci ho fatto un video adesso ne ho spogliato lui che è andato in tendenza io e lui che parliamo mi ha fatto l'occhi rini ma quando mai cioè noi comunque ha ritirato una dimensione umana alla situazione noi ce lo diciamo chiaramente perché noi facciamo tutti i video che fortunatamente vengono visti da qualche persone e ci abbiamo con questo strumento riempito uno stadio in cui rivindichiamo sempre il rispetto l'educazione non ci vedrai mai cioè noi entriamo dentro i locali permesso cioè non ci vedrai mai fare una spacconata quello che al massimo facciamo con ironia ma si capisce quindi questa è una cosa che io me ne vanto perché poi ognuno deve ostentare forse noi ostentiamo il contrario guarda che io è una cosa che voglio portare l'internazionale nel senso che io non mi venderò mai al sistema il mio avversario dopo quell'intervista mi ha detto ma perché hai fatto l'intervista così is a part of the game mi ha detto is a game infatti a me non mi interessa io questo gioco lo cambierò provo a cambiarlo magari nella rabbia della mia carriera non cambia nulla non dico non sto parlando dell'intervista che non hai parlato ovviamente la vero fare però io far tutto per far tornare di moda queste cose dell'internazionale tu sei sicuro che qua in Italia è quello che stiamo facendo questo noi lo facciamo però ecco ti dico la verità cioè non offendere scegliere di prendere una direzione lo devi fare sempre con empatia e con carisma perché se tu confondi poi in modo lo so di amico il non essere social scusa il non essere prepotente con non essere social con non metta una cosa se devo fare una storia per sponsorizzare sto lì muto però dai così non cambia niente cioè comunque lo devi dire in maniera carismatica perché mi stai dicendo che sto così beh oddio mi puoi impacciato sei fratello allora io le storie di Alessio io ho questa cosa purtroppo quando mi faccio un selfie mi sento scemo ma proprio cioè però però ma io infatti io lo dico sempre magari chiamo Evelina ti giuro io gli scrivo io gli scrivo perché Ale Ale hai fatto sta storia io ho fatto ti giuro quel prodotto non me lo confererei mai io ho proprio detto me stavo a sentire male no ma perché lui è impacciato si vede e probabilmente al momento in cui faccio così mi dico ma che cavolo stai a fare questa è una cosa che dovrò superare eh no piano piano si supera piano piano sicuramente a fare video qua sta con Simone ti aiuta no anzi ti dico lui quando fai video con me è farsi i selfie in pubblico no è una cosa eh lo so ma quella è una cosa che non ce l'hai ancora nel cioè non ce l'hai ancora nel sangue perché non l'hai mai fatto ti pensi che io le prime volte che giravo stavo per strada le persone passate a me guardavano quando YouTube era ancora una cosa così che cazzo sta a fare questo che è un vecchio un vecchio che parla anzi nella telecamera io immagino Buccioni all'inizio le bullizzate che ti faceva sì Davide però Buccione è sempre allora Davide è stato sempre in linea su sta cosa perché lui ha capito quasi da subito Davide mi fa vuoi mettere i video su YouTube mettemoli dopo il primo video che c'ha avuto 10, 20, 30 mila bravo Cicalù poi da lì è andata tutta la collaborazione ne abbiamo messi veramente centinaia di video tante testimonianze dei video dei box sono le mie perché chi l'ha ripresa prima ragazzi faccio questo no spoiler questa dichiarazione no vabbè niente meno il termine sì questa dichiarazione Cicalone nasce a parte come YouTuber la diciamo il suo nome iniziò a circolare il primo match mi ha ripreso lui da prova esatto no questo lui ha iniziato a circolare il nome Cicalone Cicalone Production perché lui veniva in tutti gli eventi pugilistici professionistici di Buccioni che ci ha sempre stato ci ha visto lungo e lui riprendeva tra virgolette semplicemente i video i match in HD quando l'HD non ce l'aveva nessuno nessuno e li metteva il giorno dopo quindi tu prima ecco la serata del 16 luglio in cui ho combattuto stai sicuro che per vedere i match devi aspettare il giorno dopo massimo due giorni Cicalone Production ma neanche il match tu hai combattuto a mezzanotte per dire ai tre era pronto esatto quindi lui non si faceva mai vedere Cicalone Production Cicalone Production però un sacco di video un sacco di visualizzazioni di Cio Colai i match io c'ho due video Cicalone Production con più di un milione un milione e mezzo di visualizzazioni ma pure lui agli inizi quando era proprio Pischiello proprio i match quelli che combattevi in posti astrusi che menavi i russi cioè spacca la testa mi ricordo quando hai spacca la testa a macro ti ricordi? ah vabbè spaccata la testa è un incontro mica perché siete fatti le carezze sei aperto su un colpo di gomito eh è brutto no? senti ma io c'è una diciamo c'è una domanda che circola chiedo a te perché tu puoi rispondere tanti mi dicono ma Mattia Faraoni nell'MMA ma non gli regge ma oggi state state voi a punzecchia a voi ma ha bruttito qua fuori no pensa se quante visualizzazioni faremmo se adesso se partimo qua e lui dai vai lo proietto proprio là e lo finalizzo proprio là io ti dico che senza guantini oddio mezzo metro in avanti cioè lo devi fare prendere così ok più il primo e poi te proietto eh ma se il primo fa bene però però sta cosa è già è già una diatriba vecchia tu pensi a lui quando era pischello io gli rompevo le scatole a lei ti do un cazzotto sotto ti piego e lui oh ma che vuoi era poi era più incazzoso da adesso lui quando era pischello era incazzosissimo voglio tornare così quanto era bello quella sociale no lui era sì era sociale incazzoso quando era poi se lo sapevi prende era pure tranquillone però se lo vedevi da fuori gli metteva paura no io perché lo conoscevo era pischello però porca niente la gente c'ava paura ti ricordi all'isola d'Elba c'era lui tutto un po' impacciato io lo riprendevo ah ma che stai a fare l'autografi l'autografi cioè pensa e lui manco combatteva qua la sera no è vero beh altro è il primo evento all'isola d'Elba lo sai no l'uno dei pochi no l'unica cosa per cui potrebbe essere un po' pericoloso fare a univers strada sono le siccome c'ha il background del karate sono le scarpe forse le scarpe siccome calciate con i piedi là potrebbe essere un po' pericoloso però ti proietto qua poi però scusa arrivato per terra se lui ho capito ma tu stai a parlare lui non ha mai fatto lotta ma facciamo vinta lui fa una full immersion con Luca Anacoreta e diventa un bel combattente almeno la difesa Luca Anacoreta e Fabio Anacoreta e Fabio perché non è che Luca Anacoreta solo va fino a cazzotti tra Fabio e Luca Luca Anacoreta però pure lotta libera con Valerio Giordani certo ma in realtà per me il più grande campione del mondo di MMA il GOAT è Gior Sanpieri e Gior Sanpieri è un karateka e aveva uno dei wrestling migliori della storia non so perché questa è una cosa che rivedo in tantissimi atleti in seminari che faccio gente che non ha mai lottato con chiunque qualche karateka lo metti là mi fa vedere una volta il double leg e te lo sa rifare non so per quale motivo forse magari con coordinazione che si sviluppa nei Kata forse magari sono i Kion la parte degli esercizi di base che ripeti le stesse cose potrebbe essere quello però secondo me io ho sempre detto beh però ormai c'è 30 anni uno c'ho 29 anni due sto sulla rampa non sai qual è il fatto io quello che dico già è difficile portare avanti due carriere sono cioè forse l'unico cioè quindi avere il tempo per mettermi a fare quelle lotte è quello il problema però secondo me la lotta è solo un complemento di quello che già fai nel senso che la verità è che comunque per fare il debutto da pro di MMA cioè però una promotion che lo paghi adeguatamente è difficile perché comunque all'inizio fai pesce nei scantinati a sbattere per terra scherzo no ma te combatteresti per poco all'inizio vabbè se devo devi sordire diciamo che lui avrebbe comunque un seguito che permetterebbe sempre di non combattere per poco nel senso anche se è una promotion minore e lui dice senti io te vendo mille biglietti a promotion te di carri non li vendo io mi vendo le mie collaborazioni Nelli e Perziano però perché Mattia c'hai collaboratori cioè nessuno noi c'hai ancora un po' da poco prima di imbruttire se compri il biglietto faceva le fai con Gabriele Casella sui gruppi per vendere biglietti io non rivedo ah vedi che stasci fuori non senti che stasci fuori no 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 uno se ho pensato adesso non è vero non ci ho mai avuto con Gabriele erano stupendi con Gabriele erano stupendi regà non ci ho mai avuto rivali non esiste cioè allora Bellator 2018 Carlo Di Brasi uno che ha portato il glory in Italia leggende ha inventato Bellator boxing Presidente One Europeo mi ha detto le sue parole record nazionale della storia io al Bellator e stiamo a parlare di uno che portava Ramon Decker uno che ha Petrosian Sakara come vendita diretta poi è normale che al palazzetto c'erano in 5 mila a vedere Petrosian è ovvio che è un dio però parlava di diretto capito ti vuol dire quanti biglietti vendeva da Petrosian tramite la sua palestra quindi di diretto proprio chi andava lì da lui a prendere lì se stava Sakara e dice Faraoni il numero di record nazionale questo io l'ho sempre detto è Roberto da crema dell'MMA o del fighting questo vedo come del biglietto ma quanta gente scusate quanta gente avete visto in giro con la maglietta Mattia Faraoni e quanta con la maglietta Alessio di Chirio infatti alzo le mani c'è un po' di imparare no non è che lo vendo io li vendono altri per me il mio obiettivo è che Alessio si avvicini un po' più verso Mattia e Mattia un po' verso Alessio così creiamo una situazione che fai io scherzo vabbè basta abbiamo portato ecco per esempio quanti bei a mio dire contenuti abbiamo portato a livello social cavolo confronti fra mettere lo sparring negli allenamenti abbiamo parlato di non violenza della violenza ecco quello è stato un video che è stato visto tantissimo voi due che parlavate delle violenze che erano successe poi tu sei proprio parte in causa perché sei MMA lui comunque è un fighter ed è un fighter comunque del bugilato e dei kickboxing quelli sono stati video veramente visti e stravisti ma dai giovani poi gente che quando vede Alessio Echirico così dice vabbè ha combattuto è uno che mena poi lo senti parlare dici no però Alessio dice delle cose sensate Mattia dice delle cose sensate Cicalone non è così cretino come sembra è un contenuto importante ti ripeto perché già discorso social è a parte ma se vai a parlare nello specifico cioè noi lo usiamo in maniera a mio dire ovviamente positiva in maniera positiva non è che facciamo sì io posso chiedicare pure io chi fa il fenomeno da baraccone poi dico lo conoscono tutti non faccio nomi però sono fenomeni da baraccone cioè non mettici pure che noi siamo questo strumento in maniera per me positiva costruttiva costruttiva sembra anche voi si sta giustificando sono d'accordo con te no 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 io puoi parlare perché sto come la pensavo la pensavo così l'ho cambiato ormai da tempo e poi puoi parlare con le persone che magari il pugilato questo è più della chicca perché guarda quando lui è venuto a Petrolesi a Mania a documentare il backstage era una cosa fighissime e i maestri la kickboxing sono più aperti sono più il sport è più nuovo i maestri cicalone cicalone invece nel mondo del pugilato che sta cambiando per ancora dare il maestro come si sente la parola social ah no che fa viene passato cicalone ah cicalone no poi il suo pugile magari adesso non faccio nomi però tu sei il maestro il tuo pugile ha difficoltà ma proprio a farsi riconoscere non a vendibili proprio della serie e quindi a combattere a combattere a portare pubblico però magari passo io e gli dico guarda ti posso fare no no a noi stai stronzato e non ci piacciono allora sai che ti dico mori te e mori il pugile tuo ma non muore nel senso muori a livello sportivo però vedi perché là c'è soltanto un preconcetto perché noi che facciamo cioè abbiamo fatto video backstage alla preparazione backstage dei quanti vi portano in conto professionisti cioè tutte cose che hanno doppia valenza uno fanno affezionare a un pubblico in generale lo sport in particolare a me quindi poi mi andano a venderti il match e due facciamo comunque conoscere no ma stimola a fare questi sport pure ai ragazzini guarda che pure il video quello iniziare l'MMA con Alessio Di Chirico ha 550 mila visualizzazioni tu lì non hai fatto altro che strada ai ragazzini a fasto sport e tu non sai allora oltre ai 550 mila su youtube e il milione su facebook la gente che mi ha scritto senti voglio iniziare l'MMA link del video voglio iniziare link del video se te lo dice Alessio ed è rimasto è rimasto un caposaldo per capire che cosa vuol dire l'MMA lui che dice regà sa le stronzate che ho sentito i guantini per far sparing sul sacco Alessio non fate sacco coi guantini perché se usano i guantoni io lo sai che quando me lo chiedevano regà qui lo dice qui lo dice cioè hai lasciato un documento nel tempo pur non volendo pur svogliato quella volta che ti ho dovuto io pungolare ci muovono a me non mi hanno fatto questi video iniziava così eravamo al gloria sia il vecchio gloria quello piccoletto poi posso spiegare un altro concetto un'altra convinzione sempre a mio dire sbagliata perché il sport al combattimento in Italia non va più perché non c'è il campione ma non è vero il rugby sono 30 anni che non vincono e rispetto al rugby si saluta il rugby Roma Massimo Gemellaggio fra me e loro riempiono lo stadio olimpico e non vincono da 30 anni un match questo perché perché c'è culturalmente c'è il trend che dice famiglie che vanno a vedere comunque la partita del rugby c'è un'altra cultura un altro approccio qua noi ancora siamo al cliché io sono andato dal notaio a chiedere il mutuo un notaio persona laureata con una testa così ancora il cliché però il pugile è un po' usuraio estorsioni cioè stiamo ancora così quindi ti dico un altro aspetto positivo di fare i video nostri vedo nel video oh Alassio De Chiro oh naga io dico oh mazza che persona amore c'è il baro c'è i figli faride fa le battute fa le interviste cambia tutto Mattia Farone e poi girano tanti altri fighter nel canale suo oh mazza hanno spesso il concetto sa parlare poi ecco per esempio il fatto che ci sono lavorato neanche lo dico però questa comunque è una cosa radicata solo nelle palestre italiane in Italia infatti se vai più all'estero mi ricordo da Keke Armusasi stava facendo un documentario mi diceva vuoi fare l'intervista eh promotion is always good no? dicono questo esatto però questo noi diamo una grande mano al movimento cioè il fatto che allo stadio nel mondo l'ultimo match quanti bambini c'erano? famiglie? eh Simo? tantissime tantissime oh padri madri bambini c'è una cosa bellissima oh a me veramente sono orgoglioso di sta cosa cioè diciamo la verità fino al 15-20 anni fa vennevi una serata buggerato per sbaglio non c'erano mai più 300 persone tatuati solo in foccia eeeh eeeh adesso su famiglie oh ma quanto bello che era menalo per mamma buttalo di su ammazzalo no ammazzalo per mamma cioè c'era c'era ammazzalo per mamma Massimiliano non dico il cognome presidente della mia palestra dell'euro Massimiliano ancora fino a un anno fa no match le chicche vengono in trasferta dai bambini match le cucitane non vengono perché? ma sai che non mi piace l'ambiente del pugilato vengono a vedere cioè lui uno che è del settore uno che ha 50 anni che ha una palestra pensa quanta gente mo sei ricreduto viene ricredito è vero capisci? è successo pure a Fabio bomba anarchica che non è venuto al tuo match perché è rimasto colpito da un match precedente troppa confusione troppo rumore troppo lui ha percepito violenza lui lo sai che mi ha detto a un certo punto ho visto oh Fabio è proprio un'anima candida mi fa no io l'ultimo incontro ho visto troppa violenza ho sentito troppe parole contro quella persona lui non è voluto venire al tuo io ho detto guarda non è la stessa cosa ci ho provato a convincerlo e poi è tutto diverso niente lui ha percepito sta cosa è rimasto bloccato pensa che roba vabbè di questo non sono orgoglioso vabbè ragazzi oggi vi ho portato veramente un contenuto importante due fighter un confronto il tema dei social il confronto che adesso vabbè fuori camera semenano muovo sangue però vorrei ricordare una cosa Alessio a breve combatterà perciò supportiamolo lo stesso supportiamolo sui social commentate le sue foto dice forza Alessio però alle 4 di mattina per vedere l'incontro non si alza posso dire che merda no se vuol dire poi ha un collega non è vero l'ultimo match l'ho visto io l'ho visto sono andato alle 6 di mattina alle 7 di mattina no sto scherzando ah voi se te combatti alle 4 di mattina non è vero l'ho visto sto scherzando perciò raga mi raccomando continuate a supportare Mattia ma non credo ce ne sia bisogno perché ormai Mattia sta veramente da per tutto sui social nostri e poi ricordate no dove di solo sta cosa a proposito ma il bello il giorno dopo il match ancora tutt'ora invece le fanno solo di calcio mi ferma la gente con il titolo c'è gente che fa nella vita il barista il carrozziere se si parla di là ma voi avete capito perché me lo dice cioè io sono d'accordo con il rispetto però con chi me devo rivolgere ma se vuole litigare concordiamo tutti che i social sono uno strumento potentissimo che tutti quanti dovrebbero imparare a usare e io lo sto facendo non mi dico che non lo sto facendo sì assolutamente poi supererò il complesso dei selfie allora facciamo una cosa adesso da Alessio da qui al match si impegna a pubblicizzare molto il suo match condividi le storie con noi ci tagghi e noi te le ricondividiamo voglio proprio vedere oh voi c'hai da testimonianza se non lo fa è colpa sua però seguitelo lo stesso ti fatevi Alessio e oh ci vediamo al prossimo video magari dopo il match d'Alessio così ci racconti un attimino l'esperienza indipendentemente da tutto noi vi salutiamo e ci vediamo al prossimo video ciao 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 ciao